In questo tutorial Pixeler Snippets, impareremo come utilizzare lo strumento Clone Stamp all'interno di Pixeler X. Lo strumento Timbro Clone si trova all'interno dell'icona Ritocco nel pannello degli strumenti. Una volta selezionato lo strumento, ci vengono presentati tre cursori. Il dispositivo di scorrimento delle dimensioni aumenterà o diminuirà la dimensione del pennello con cui dipingerai. Aumenta o diminuisci il cursore della morbidezza per creare un bordo più nitido o più sfumato. Infine, il cursore della trasparenza ti consente di aggiungere più opacità all'immagine clonata. In questo esempio, cloneremo il lecca-lecca. Lo strumento clona a sempre due modalità. Viene impostato automaticamente sulla sorgente fino a quando non fai clic sull'immagine per impostare il punto di origine. Puoi sempre reimpostare il punto di origine in un secondo momento tenendo premuto il tasto Mayusk per riportare il cursore all'origine. Quando inizi a dipingere, il cursore del punto di origine ti mostra l'area dell'immagine che clonerai. Riduciamo la trasparenza per aggiungere più opacità al nostro clone. Nella normale modalità di clonazione, il punto sorgente rimarrà sempre alla stessa distanza dal cursore ovunque lo sposti sullo schermo. Tuttavia, attiva l'opzione Allineato se desideri che il cursore ritorni al punto di origine ogni volta che rilasci il mouse. E ora che sai come utilizzare lo strumento clone, divertiti a creare con PixelRix. Grazie. 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 Grazie.